L'Ugnano, frazione di Vico Pisano, conserva a tratti le antiche strutture di un borgo antico. La bellezza della grande piazza del paese, con la chiesa e un'antica fattoria ancora intatta. Per convincerti o due minuti, ancora due minuti ma non li sprecherai, per mentirti mai come neve. Vicoli e sottopassaggio a Lugnano per tornare indietro nel tempo. Strida il contrasto della nuova zona residenziale, ai piedi dei Monti Pisani. Vivi di me, pensi basteranno a ricoprirmi di bugie come se... Grazie a tutti.